e dopo questa nostra avventura terrei a salutare e a dedicare tutta la missione ricominciamo stop check check 2 9.36 ancora siamo a mare quasi arrivati al finale perché? perché qualcuno ti ha addormentato non ci credo semaforo rosso cioè eravamo in un momento di sregolatezza arriva il semaforo e ci impone un codice etico e non dovremmo rispettarli e non dovremmo rispettare il semaforo e non dovremmo rispettare il semaforo o E' la fine di questa nostra avventura prima di ritornare a Ciacca e Tre Siamo pronti a partire con molti di caldo con le bute addosso 2 mm Ma l'acqua non è più tardissima e piacevole Generalmente ha provato alcune persone che oggi non sono di secondo posto volendo il sole Nella stessa di Montenegro E' un'olica assolata A posa e senza spazio E con le alghe rosse Le alghe tossiche e non le alghe rosse E' un pesardo Tutto è pronto Gli ultimi preparativi Chiudiamo le mute Caschetti in testa Giubbottini E si parte Uomo Gli ultimi preparativi Che È Nella Sì. Felicità per Roberto, Giuseppe e me. Aria, si commenta la somma. Quando siamo finiti, ci chiediamo se non abbiamo svegliato fiume. Aria, si commenta la somma. Aria, si commenta la somma. Alla fine di questa nostra avventura vorrei dedicare questa splendida giornata a tutte le persone che in questo momento ci stanno pensando. Sincronizzate. Io lo so bene. Un bacio, saluto. Alla ragazzi. Alla ragazzi. Alla ragazzi. E' stasera anche se è sabato, ma non fa fanno fuori, stasera si torna, stasera si dorme, a me è attiva, si, non sapevo niente, a me è più bello questo, cavarga in mare, se a me è già passato un minuto a me, si, aspettiamo un altro po', ti dico di nuovo.